Negli ultimi decenni in particolare si è sviluppata un'intensa attività di critica e di invenzione, che ha dato modo di conoscere la quantità e la qualità degli scrittori di aforismi, di cui il messicano Iran Barrios come autore, editore e curatore di testi è stato interprete e promotore fondamentale. È anche per questo che i suoi aforismi hanno un'alta e profonda connotazione critica, sia diretta sia metaforica. Non a caso pertanto buona parte dei suoi testi sono costituiti da «aforismi sugli aforismi», aforismi che perciò riflettono sulla natura stessa dell'oggetto che essi stessi sono, è un genere nel genere che ha contraddistinto la storia millenaria degli aforismi e che ritrova in Barrios appassionata energia e feconde prospettive. Dalla prefazione di Gino Ruozzi